oggi giornata piovosa o disastrosa come dicono le previsioni però spagnata l'idea di oggi è quella di arrivare sul periodo possibile sulla cresta cercare di raggiungere il bisbino e tornare indietro il tutto per un'uscita di circa tre ore e poi solito incontro con l'amico osvo del nostro gruppo anti bitume pizzo meda panorama spettacolare la sotto la sotto c'è como la la sotto qui ci sono io e qui abbiamo un prato che è pronto per fiorire adesso andiamo avanti in quella direzione lì scendendo scendendo da questa parte non fa sì forse faccio la cresta in svizzera guardo se riesco arrivare al bisbino comunque due ore poi si torna indietro per incontrare l'osvo alto cavazza l'uvento è abbastanza forte adesso arriva dalle mie spalle vorrei cercare di arrivare la bisbino vediamo cosa si riesce a fare dovrei essere in tabella ci proviamo ci provo anti tutta forza 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 lo so tornando indietro perché dopo il video con il vento così sono andato avanti ancora un pezzo c'era giù ghiaccio avevo le mani completamente intorpidite e i piedi stavano facendo la stessa la stessa fine più sicuro tornare indietro comunque un bel giro bisbino ci rivedremo ci rivedremo te lo prometto adesso avanti così verso una bella birra calda e una pizza fredda in compagnia del simpatico osvo di anti vitughe avanti avanti e ancora avanti